Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità, oggi parliamo di sostenibilità sì ma calata nel mondo sportivo e quindi darei subito il benvenuto ai nostri ospiti Nicola Schena amministratore delegato di DNA Sport Consulting e Gianni Gobbi presidente di Straverona, benvenuti entrambi. Buongiorno, grazie. Allora dunque oggi parliamo di sostenibilità e parliamo di sport ovviamente ma prima di entrare nel diciamo nel club del discorso vorrei un attimo presentare le due realtà quindi partiamo da DNA Sport Consulting che di sostenibilità diciamo fa un po' la chiave di tutto il lavoro. Sì assolutamente DNA Sport Consulting è un'agenzia che opera nel mondo del mondo sportivo a 360 gradi si diceva una volta, lavoriamo su tutto il territorio nazionale per agevolare le realtà sportive, le aziende e gli enti locali, gli stakeholder nella fruizione, nella modalità di organizzazione di eventi sportivi. Da sempre appunto ci occupiamo di sport e quindi ovviamente quando si parla di sport si parla di sostenibilità, si parla di sostenibilità sociale, si parla di sostenibilità ambientale e quindi un'attenzione particolare al mondo green e a tutto ciò che riguarda ovviamente l'ambiente. Certo, ecco, Straverona invece è una manifestazione che ormai è tradizione in città, Gianni raccontaci un po' per chi magari non la conoscesse, magari c'è qualcuno che ancora non vi conosce. Sì, io qui rappresento l'associazione Straverona che è nata nel 97 ufficialmente per la realizzazione della Straverona come stra cittadina, è un evento podistico non competitivo, un unico motorio che ha portato e spero porterà ancora in piazza 20.000 persone, 20.000 tra sportivi, famiglie, ecco, la Straverona è un grande evento sportivo ma anche di piazza, è una festa, una festa della gente, una festa dei veronesi. La Straverona normalmente si tiene la terza domenica di maggio, e quest'anno sono qui che stiamo organizzando perché dopo Romani è già ora. Eh sì, eh sì. Ecco, parliamo di sostenibilità a questo punto visto che ne accennavamo prima con Nicola. Sostenibilità è una parola che sentiamo molto spesso ultimamente, associata allo sport, però diciamo ha sempre il suo perché. Ecco, voi come operate in questo senso? Noi, appunto, dopo una pausa di riflessione forzata, ovviamente come sappiamo benissimo, non dimentichiamoci che tre anni fa, nel 2020, eravamo bloccati in casa e potevamo fare attività motoria, ma non congiunta, non potevamo realizzare eventi e quindi abbiamo avuto occasione anche per noi di fermarsi a riflettere. E da ciò è nata l'idea appunto di provare a capire cosa voleva dire andare a realizzare degli eventi che non fossero solo, diciamo, a impatto zero ad essere eventi green, ma essere anche sostenibili ed essere anche certificati. Quindi da eventi che noi abbiamo sempre realizzato, ricordo corse dove c'erano caccani e padroni, o meglio quadrupedi e bipedi, piuttosto che eventi all'interno dei parchi naturalistici, piuttosto che gli eventi che abbiamo realizzato sulle spiagge del litorale adriatico, bene, a quel punto abbiamo pensato anche che servisse anche un passaggio in più, servisse che qualcuno esterno al nostro mondo ci confermasse la bontà dei nostri eventi. E quindi abbiamo intrapreso un percorso, lo scorso già nel 2021, che ci ha portato ad ottenere la certificazione ISO 2021. Perché 2021? Perché è 2022, ovvero la data delle Olimpiadi di Londra, che sono state le ultime Olimpiadi importanti in Europa, ultime Olimpiadi europee, quindi che hanno avuto una maggior attenzione e sono state quelle che hanno dato in là la certificazione rispetto alla sostenibilità ambientale, sociale e ovviamente economica. Bene, quindi noi abbiamo intrapreso questo percorso perché appunto riteniamo che gli eventi non siano solo sostenibili e green lato interno, ma siano anche da realizzare con dei principi solidi che sono appunto l'inclusione, ovviamente l'integrazione, la socialità e la sportività. E in questo percorso abbiamo ovviamente diciamo voluto e provato a coinvolgere l'evento che per noi è un po' l'evento che è il nostro fiore all'occhiello sulla città di Verona, che è appunto Staverona e quindi nell'anno diciamo della ripresa a tutti gli effetti, cioè il 2022, abbiamo coinvolto Gianni e ovviamente tutto il direttivo di Staverona per andare ad ottenere l'auditing rispetto al nostro flusso di gestione, secondo i principi della certificazione appunto, ma messa a terra poi su un evento, un vero e proprio evento e quindi abbiamo provato a ragionare insieme a Gianni quale fossero poi le azioni rispetto a una checklist iniziale da andare a realizzare all'evento più partecipato della città di Verona, appunto la Staverona. Ah sì, perché comunque ricordiamo lo richiama 20.000 persone in città, quindi un evento parecchio ingombrante in senso buono ovviamente. E Gianni adesso appunto caliamo tutto il lavoro che è stato fatto con DNA Sport Consulting su Staverona, che insomma anche quest'anno chiaramente è coinvolta. Quando Nicola mi ha prospettato questa possibilità io l'ho vista subito molto bene perché sono profondamente convinto che la sostenibilità non possa essere una moda nel momento, ma deve essere qualcosa che deve entrare nel DNA non solo delle aziende, delle istituzioni, ma anche delle persone. Perché noi questo pianeta ormai lo stiamo affollando, lo stiamo sfruttando e cosa lasciamo ai figli? Ecco, dobbiamo cominciare a ragionare in maniera un po' diversa, no? La crescita sostenibile famosa. Per cui abbiamo accettato di seguire questo ITER prima formativo e chiaramente poi dopo di calarlo sulla realtà e abbiamo di fatto sviluppato tutta una serie di azioni e di cose concrete per stare sulla sostenibilità ambientale che abbiamo fatto. Abbiamo eliminato la plastica a monouso dai ristori, dai ristori come? Convolgendo delle aziende, perché poi dopo alla fine deve essere un network con questo qui, no? Convolgendo delle aziende, l'Acqua Veronese ci ha messo a disposizione degli erogatori che abbiamo installato in tutti i ristori, otto ristori in giro per Verona e le colline, con problemi organizzativi del tipo dove non c'era il corrente, portare i generatori, ma ce l'abbiamo fatta. Con AMIA abbiamo messo a disposizione poi degli utenti i bicchieri compostabili, per cui non plastica, ma qualcosa di biodegradabile. Ma non solo, abbiamo fatto un network anche con Plastic Free, un'organizzazione, un'associazione a livello nazionale che a Verona è molto attiva e che ci ha messo a disposizione il personale, i volontari per la pulizia, diciamo, delle strade vicino ai ristori e per l'erogazione dell'acqua e fornirla poi dopo agli atleti, agli atleti, alla gente che correva, insomma. E altre azioni che abbiamo fatto è ridurre drasticamente la carta utilizzata per i volantini. Anni fa avevamo dei volantini che erano pentafacciali, erano una fisarmonica così, adesso una cartolina con QR code, la gente non è mai si è abituata al mondo virtuale e ad avere le informazioni che tra l'altro sono anche le più aggiornate quell'online. Ecco, abbiamo ad esempio fatto una convenzione con la TV per cui chi veniva fuori città, chi vienerà ancora, perché poi sono cose che ovviamente ripeteremo quest'anno, miglioreremo se possibile, chi viene fuori città parcheggia allo stadio ad esempio e poi con delle navette gratuite, basta avere il pettorale, ci si arriva fino in città. Per chi abita in città invece ogni dintorni venite in bicicletta, non andate intasare i parcheggi e con FIAB mi ha fatto un accordo per cui loro ci facevano la custodia delle biciclette, una serie di operazioni di questo tipo. È stato un impegno però io penso che abbiamo fatto anche un po' scuola, sono stati i primi a partire con questa cosa qui in Veneto, sicuramente in Veneto e poi penso che se la sostabilità deve entrare in linea delle persone, con chi educhi le persone, con le scuole, anche lo sport fa la sua parte per cui pensiamo di essere stati un esempio anche per altri organizzatori, ci auguriamo almeno perché non è un lavoro fine a se stesso quello che abbiamo fatto, ma speriamo di essere stati dei precursori e di poter in un certo senso essere di buon esempio per gli altri. Certo, ecco Nicola per esempio prima fuori camera dicevamo che la Straverona è un evento podistico come la Straverona già di per sé è sostenibile perché si parla di atleti che corrono e quindi diciamo non c'è un gran dispendio di altre energie, però di fatto tenere alta l'attenzione anche verso gli eventi sportivi sempre in ottica sostenibile non solo ambientale perché voi lavorate in ottica sostenibile a 360 gradi come dicevi è molto importante. Sì assolutamente è molto molto importante, ovviamente c'è anche la parte di sostenibilità sociale di per sé, l'esempio di Straverona calza sempre a pennello perché da sempre l'associazione Straverona sostiene dei progetti importanti di Charity con le varie azioni, le varie attività che si va a realizzare ma abbiamo messo al sistema non solamente questo aspetto ma anche quello appunto legato alla sostenibilità culturale se vogliamo insieme a quelle appunto alle varie associazioni e quindi ai vari stakeholder che abbiamo coinvolto anche quella di diffondere la cultura e un aspetto culturale sempre con un approccio motorio, con un approccio legato al mondo sportivo legandosi a delle passeggiate culturali collegate all'associazione Verona Milano di Jerusalem venendo appunto poi a DNA ovviamente DNA analizza altri eventi insieme ad altri partner sul territorio nazionale e da sempre ha questa visione, questa ottica per andare a avere un occhio di riguardo sulla sostenibilità ambientale e soprattutto anche culturale in modo tale da sociale e quindi da riuscire a lasciare per ogni evento una legacy, un'eredità che poi possa continuare sul territorio e continuare sulla vita quotidiana. Ovviamente parliamo di eventi che hanno una cadenza giornaliera ovviamente sono eventi che hanno un inizio e una fine però che lasciano delle esperienze positive e che secondo noi devono anche lasciare un'eredità che poi deve essere continuativa nell'arco dei 365 giorni all'anno. Chiaro. Beh insomma Straverona per quanto mi riguarda ormai manca poco e insomma avete intenzione di crescere anche da questo punto di vista della sostenibilità quindi insomma io vi faccio un grande in bocca al lupo sia per Straverona, Gianni e anche per DNA Sport Consulting che posso portare avanti insomma tutti questi bei progetti. Io vi ringrazio per essere stati miei ospiti oggi è stato davvero un piacere. Grazie. Grazie, grazie a te. Benissimo allora anche io vi saluto, grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità. Grazie.